Salve, in questo video vi racconterò in tutti i dettagli il fenomeno che si sta verificando a partire dalla cima del vulcano marziano Arsia Mons nella regione di Tarsis. Vi illustrerò anche tutte le incongruenze contenute nelle dichiarazioni ufficiali e nelle dichiarazioni rilasciate da scienziati accreditati come Jorgen Hernandez e Tania Harrison che riegano categoricamente l'origine geologica del fenomeno. Tra un attimo. Bene, prima di cominciare tutta la discussione presentiamo due personaggi che hanno preso parte a uno scambio di informazioni su Twitter. Il primo è Jorgen Hernandez che vedete qui, è un fisico, è un astronomo direttante, è un divulgatore scientifico e attualmente lavora all'ESA Mars Webcam. Seconda persona di interesse è la dottoressa Tania Harrison che contrariamente a Jorgen Hernandez che lavora per l'ESA, quindi per l'Agenzia Spaziale Europea. La dottoressa Tania Harrison lavora per il Mars Rover, il Mars Curiosity e il Mars Reconnaissance Orbiter. Questi sono i due punti di vista che tra un po' vedremo in un post interessante in cui si parla sostanzialmente di questo evento. Come potete vedere, faccio un'animazione che ci mostra il vulcano Arsia Morse centrato qua nel centro e in cui si può vedere anche l'articolo. Nell'immagine del 16 non si vede nulla, nell'immagine del 19 sì e da lì in poi, come vedete, ce l'è. E notate anche l'ombra come intenzia, sempre e non è il caso. Ok, questo è il fenomeno di cui parleremo un attimo, dando spazio a ciò che appunto... Allora, questa è una delle tante foto riprese dalla Mars Webcam, anche qua si vede il pennacchio, chiaramente. E vediamo Jorgen Randers che dice, ah, non è un'attività volcanica, molto probabilmente è un fenomeno atmosferico regolare. Tuttavia è interessante ed è sottostudio e ovviamente arrivano altri commenti in cui... Dice, ma come fa una nuvola a resistere più di un mese nella stessa posizione? Lo chiedo perché sono molto interessato. E Jorgen Randers a questo punto dice, non vorremmo pubblicare conclusioni affrettate, questo è tutto. E lì, insomma, praticamente è come se chiudesse la conversazione, nel senso, è tutto. Quello che possiamo dirvi è questo, è interessante, ci stiamo studiando. E poi fa una strana presentazione di un'animazione della dottoressa Tania Harrison, che abbiamo presentato prima. E qua dice, per quanto ne sappiamo, non c'è attività geologica attualmente su Marte. E poi avanti dicendo, cioè presentando in pratica le immagini della Mars, dove si dice che questa è una nuvola di ghiaccio d'acqua. Questa è una nuvola di ghiaccio d'acqua. E Tania Harrison subito ribatte. Non è un pennacchio di pomo, ma piuttosto una nuvola di condensazione di ghiaccio d'acqua. sopra la sommità di Arsia Monster. Questo tipo di formazione, sopra i vulcani principali, è una cosa che vediamo abbastanza spesso. Poi c'è un'altra vista dell'inizio di questo mese, questa è della Mars che fa l'ascensore orbite. E qua ci fa vedere questa immagine. Sostanzialmente poi dopo riprende il discorso. E dice, e sopra questo particolare vulcano, a causa del periodo dell'anno, e del fatto che si trova nell'emisfero sud. Nell'estate dell'emisfero nord, quando c'è anche più vapore d'acqua nell'atmosfera, noi vediamo spesso nuvole come queste sui grandi vulcani. Ho guardato le immagini di questo atletto e l'incanto prima, quelle che abbiamo visto precedentemente in sostanza. E qua, io ribatto e dico scusi, ma io non vedo nessuna formazione a... Blue light in inglese vuol dire una formazione a piuma, una formazione a pennacchio, sopra il vulcano. Altri che su Alessia Monsen. Vi puoi mostrare qualche foto, per favore? E, gentilissimamente, la sorridente dottoressa Harrison ci presenta questa bella immagine. E poi aggiunge anche sotto, questa non è un pennacchio vulcanico, queste sono nuvole di ghiaccio d'acqua che condensano sopra la sommità di Alessia Monsen e gli altri grandi vulcani su Marte. Sono molto comuni sopra l'Alessia Monsen in questo periodo dell'anno. Tarda estate nell'emisfero sud. Ok, e qua ci siamo. A parte questa immagine, è la data per i primi del 2000, io sono riuscito a trovarla. Ecco la quarta, l'intero. E' stata pubblicata il 20 maggio. Non dicono, non c'è nessun riferimento, come potete leggere, al momento in cui è stata presa realmente questa immagine. Ma, dal modo in cui è visibile la carota polare, vedete? Anche un bel pezzo di cuore. Sembrerebbe in piena estate. Mentre invece il 20 maggio del 2003, aveva dovuto praticamente l'ombra a tagliare la carota polare qua a metà. Perché si trattava dell'inizio della primavera dell'emisfero sud. Quindi, per questo che l'emisfero nord era all'inizio dell'autunno. Quindi, qua doveva tagliare l'ombra, la carota polare. E invece, come vedete, non lo è. Quindi vuol dire che questa foto è stata presa sicuramente qualche mese prima di quando è stata in realtà pubblicata. E questo, vabbè, a volte capita. Le foto vengono prima scattate, prelaborate e poi pubblicate. Peccato, qua non c'è nessun riferimento temporale su questa foto. Cosa interessante, però, sono queste nuvolette orografiche. E qua, come potete vedere, fanno una specie di collare intorno alla sommità dei vari vulcani. Qua c'è la Sermons, tra l'altro. E poi si aprono più o meno a ventaglio. Vedete? Vanno sempre ad allargare e si sfumano. Questa è la tipica struttura di una nuvolografica sfumante. E più o meno intense si notano anche qua. Anche questo è un altro grosso vulcano della regione. E, come si può notare sempre, la trasparenza di questi lunghi non sono proprio così compatte. Più o meno si riesce sempre a vedere parte di quello che c'è sotto, come qua il bordo del cartiere o la topografia sottostante. E dopodiché c'è stato un altro post sempre con la dottoressa Tania Carenza. E in questo caso, sempre partendo da un'immagine, anzi questa addirittura una delle più recenti, in cui questo utente ha chiesto, secondo la mia opinione, questa scia è durata troppo a lungo per essere soltanto una nuvolografica. Ma questa è solo la mia opinione. Perché sta durando così a lungo? Una domanda più che legittima. E la disponibilissima dottoressa Tania Eritro risponde È normale su Marte in questo periodo dell'anno. Ecco qua un video che mostra un anno marziano con le informazioni meteorologiche. Come potrai vedere, in questo esempio sono presenti parecchie lubie olografiche sui grandi vulcani per settimane. E vedendo questo video, anzi vediamo un po' più grande se è possibile. Si può vedere, questo è Arsia Morse, questi sono gli altri vulcani, a Pavonis Morse, a Creos Morse, il mondo Olympus e Arsia Morse. Vedete che in molti periodi dell'anno ci sono queste rubie olografiche, ma vedete che aspetto che hanno? Sono sempre a batuffolo, possibilmente con apertura a ventaglio. E dipendono sì dal periodo dell'anno. In questo caso c'è stata anche una tempesta di sabbia che ha oscurato quasi tutto. e questo è tutto quello che possiamo vedere intorno, non c'è nessuna struttura diciamo a striscia, a pennacchio. E qua il nostro attento ancora risponde, grazie per l'ottocentina risposta. In questo film tuttavia non si vedono solo rubici scolari presenti nello stesso periodo su tutti e quattro i vulcani. Ma non soltanto su Arsia Morse, a volte sono allungati e questo è il mio grosso dubbio. Tania e Arsia Morse, ancora una volta, accendidissima risponde Noi sappiamo che sono nubi di ghiaccio d'acqua attraverso molti canali di osservazione e per molti anni. Se ci fosse stato un pennacchio vulcanico, un'attività vulcanica, qua uso un'espressione che, insomma, vuol dire che ci avremmo sicuramente guardato sopra, anche perché sarebbe stato un grosso lavoro di comprensione per la geologia marziana, nel senso che fosse stato veramente un evento geologico tipo un'eruzione e la cosa sarebbe stata molto interessante da studiare. E questa è, diciamo, praticamente la visione della dottoressa Harrison che appartiene al team dell'Analisa. Però a questo punto dobbiamo fare anche una piccola distinzione. George Hernandez, da un lato, lasciava aperto qualche dubbio a qualcosa da approfondire. Tania Harrison, invece, sembra molto convinta di quello che afferma. E tuttavia, guardiamo queste foto ancora una volta per rifarci un'idea del fenomeno. Intanto, come potete vedere, non è un collare circolare, è proprio un getto che parte. e poi viene trascinato probabilmente dal vento in una direzione più imprecisa. Tra l'altro, nelle immagini del 16, come facevo a vedere, non si nota nulla. Assolutamente nulla. Questo era Simmons e non c'è nessun getto. Mentre invece, in questa bellissima immagine del 17 settembre, si vede... si vede un piccolo oggetto bluastro, bianchiccio bluastro, che probabilmente si estende anche fino a qua al limite, al massimo la parte più densa, sempre quest'area qua. Ma notate l'ombra, che arriva intanto fino a qua, che è un'ombra molto alta. Molto più alta dell'ombra proiettata dallo stesso un piano, tra l'altro. Quindi, vuol dire che questo oggetto è estremamente proiettato verso l'alto. Non si stende tanto in lunghezza quanto in altezza. E questo ce lo dice l'ombra. Ed è un chiaro fenomeno, un chiaro indicatore. E anche questa immagine, presa il 21 settembre, ci mostra un bel pennacchio. Ora, in questo caso, come si legge anche nella didascalia, il pennacchio misurava 915 chilometri di lunghezza. Ora, se il fenomeno è cominciato il 17, perché ovviamente l'immagine del 16 non ci mostra nulla. La prima immagine che ci mostra qualcosa è quella del 17. Vuol dire che in meno di quattro giorni questo pennacchio si è esteso per quasi mille chilometri. Non ci sono delle indicazioni, delle chiare indicazioni riguardo ai piani cromatici utilizzati. Cioè, non sappiamo cos'è il rosso, cos'è il verde e cos'è il blu. Vediamo solo queste immagini, presa da uno spettrografo. Anzi, high resolution stereo camera a bordo della mass express. Però non si sa, in questo caso non dà indicazioni precise. Però, qua si vede bene l'ombra di questo pennacchio e questo è un'altra indicazione della densità di questo pennacchio. perché, per arrivare a proiettare delle ombre così scure, come anche nell'immagine precedente, come questa, vedete com'è scura l'ombra, per arrivare a proiettare delle ombre così scure vuol dire che il getto, il pennacchio, come lo vogliamo chiamare, ha una bella densità. sufficiente a oscurare la luce del sole, vuol dire che se qualcuno si trovasse ad osservare dentro quest'ombra, il sole per voi sarebbe invisibile totalmente. E allora, vediamo cosa vedono gli americani gli obiettivi. Giorgio Hernandez appoggia, ma lascia degli spiragli. Allora, poi abbiamo Arsermons. e queste sono le immagini della Marsi, a bordo della Marsi, con il sensorbito della NASA, e come si può notare non si vede nessun pennacchio di nessun tipo. Si osserva soltanto una nuvoletta lografica, questa sì, o quantomeno ha l'aspetto di una nuvoletta lografica. Però attenzione, perché la telecamera Marsi è una telecamera multispettrale, che riprende non solo nel rosso, nel verde e nel blu, ma anche in due bande nel ultravioletto, che sono specializzate nella visione del vapore aquio e delle condiziazioni anche di CO2. Com'è possibile, quindi, che una telecamera così avanzata riesca a vedere soltanto questa nuvoletta, mentre invece una semplice webcam, perché questa è la Mars webcam, una webcam di una decina di anni fa montata sulla Mars Express, tra l'altro una webcam ancora con la risoluzione 640x480 pixel, quindi molto primordiale, infatti la resa cromatica non è delle migliori, si notano anche degli artefatti, ma per niente comunque è in una posizione molto interessante per quello che può vedere. Però una telecamera così riesce ad indicarmi questo pennacchio in modo così visibile, mentre invece la Marsi non vede niente, vede solo una nuvoletta che tra l'altro di là neanche si vede, infatti questa è la frase interessante. Ok, giusto per capire come siamo orientati, questa è una piccola mappa che ho costruito utilizzando uno screenshot da Google Art, che si può usare anche con le mappe di Marte, quindi è comodissima. Qui vediamo i quattro vulcani principali, quelli che si vedono nelle immagini della Mars webcam fondamentalmente, perché adesso abbiamo un indico con un mouse, spero che si veda, qui c'è anche un quinto in realtà, che è Alba Mons, del quale tra l'altro abbiamo parlato molto tempo fa, ma come vedete è anche molto più a nord, quindi diciamo un po' fuori dalla fascia tropicale marziana. però abbiamo Alba Mons, che è il pomo della discordia, abbiamo Pavonis Mons, qua in mezzo tra i due, tra i tre scusate, e il terzo che è un Mons, e qua a parte quello più alto, il Montolinquo, che è il vulcano più grande di tutto il Sistema Solare. Ok, così almeno ci facciamo un'idea e abbiamo dei punti di riferimento. Quest'immagine girate in modo da avere il sud a sinistra, l'ovest in alto, l'est in basso e il nord a destra. Esattamente come le foto ruotate della Marsi, per tenere sempre conto dell'orientamento di base delle foto della Mars Webcam, che sono orientate in questo modo qua, facendo riferimento a questo tipo di orientamento. Adesso ritorniamo alle nostre animazioni, qua dobbiamo fare una piccola osservazione, piccola ma molto importante, perché poi questo risulterà anche in quanto dichiarato nell'articolo che poi vedremo dall'ESA, il primo articolo ufficiale in cui si parla di questo pennacchio, che però qua non si vede. Però notiamo dei dettagli allora. Qui abbiamo Asemonis, qui abbiamo Pavonis e qua abbiamo Acheus. Guardate Pavonis, notate come viene offruscato dall'alto verso il basso e poi riappare dall'alto verso il basso. Quindi il flusso d'aria qua, a quanto sembra, si muove dall'alto verso il basso, ovvero da ovest verso est. E in effetti la nube orografica che appare qua è sul lato ovest del vulcano, perché l'aria arriva proprio da ovest. E infatti poi vedremo dopo, quando approfondiremo il discorso della nube orografica, che le nube orografiche di questo tipo si formano sopra vento, cioè nel lato che viene colpito dal vento. Il lato opposto, dove il vento ridiscende, si chiama lato sotto vento. Il lato sotto vento di solito è privo di nubi, perché tutta l'umidità o tutta la condensazione possibile è avvenuta nel lato sopra vento. Poi quando l'aria ridiscende si comprime e attraverso un processo chiamato compressione adiabatica si riscalda, per cui l'eventuale umidità viene ridissolta. e quindi di solito la nube appare sempre sopra vento e non sotto vento. Questo è un aspetto molto importante. Perché? Perché se noi ritorniamo a queste immagini, vediamo chiaramente che il pennacchio si estende verso ovest. Quindi è come se in realtà il vento si muovesse dal basso verso l'alto, cioè da est verso ovest. E vedete la nube come si estende fino al 24. Il 24 raggiunge un'estensione che, misurata sull'immagine conoscendo la scala e le dimensioni del pianeta e tutto quanto, viene fuori una misura tipo 2.100 km. Io personalmente non ho mai visto una nuova grafica così lunga neanche sulla Terra. Evidentemente. Però, attenzione. Qui il vento, come dicevamo prima, va dal basso verso l'alto. Quindi da est verso ovest. E il pennacchio ovviamente tira verso ovest. E si estende verso ovest. Qui invece l'alto si muove esattamente al contrario. Allora, ovviamente qua potete anche vedere che razza di una bollettina olografica ci mostrano sulla cima, un batuffolino. Questa discrepanza, dicevo che è molto importante perché poi nel primo comunicato ESA, la scia che vediamo in questa animazione, viene definita una lee cloud, cioè una nube sotto vento. Cioè, secondo loro, il vento va effettivamente da est verso ovest. Incontra il vulcano Arsiamons. Sul lato sopra vento non si forma nulla, ma magicamente sul lato sotto vento si dovrebbe formare una lee waves. Che poi vediamo cos'è. Ecco l'articolo dell'ESA, il primo articolo dell'ESA, che parla del fenomeno di Arsiamons, che come vi ricordo è iniziato il 17 settembre di quest'anno. Nelle foto del 16 non c'era niente, come vi ho mostrato, nelle foto del 17 invece sì. E vediamo che l'articolo comincia che a partire dal 13 settembre la massa espressa dell'ESA tiene sotto osservazione l'evoluzione di una nuve allungata, di una strana formazione nuvolosa allungata, che si estende sola a partire dalla sommità del vulcano Arsiamons, ad un'altezza di 20 chilometri, vicino all'equatore. La foto che vedete parla da sola. Tra l'altro questa è la foto del 10 ottobre, che non era uscita nelle normali foto pubblicate su Clicker, che sulla mia pagina avevo pubblicato con le foto Rav, ma insomma non era messa da pubblicata a colori, invece qua ce l'abbiamo. Qua intanto notiamo subito una piccola discrepanza. Qua parla del 13 settembre, come data di partenza dell'osservazione e dell'evoluzione di questa nuvola. Però il 16 ancora non si vedeva niente. Noi immagini del 13 non ne abbiamo viste. quelle che mostrano loro per lo più, come abbiamo visto, partono a partire dal 17, quelle un po' più ravvicinate. Però già si afferma che loro, a partire dal 13 settembre, tengono sott'occhio questa formazione. Poi abbiamo, nonostante la localizzazione, fate che ve lo indico con nausea. Qua praticamente. Nonostante la sua localizzazione, questa formazione atmosferica non è legata a nessuna attività vulcanica, ma piuttosto è una nuve di ghiaccio d'acqua generata dall'influenza del vulcano, dal lato sottovento del vulcano, dove l'aria soffia. Allora, il lato sottovento, in questa immagine che è girata con nord in alto. Sottovento vuol dire che il vento arrivava da destra verso sinistra, quindi da est verso ovest. Come dicevamo prima, esattamente secondo le immagini dell'ESA, che però sono in contraddizione con quelle dell'analisa, dove invece il vento va esattamente in direzione apposta. Qua, nonostante tutto, in questa affermazione, si può già vedere il termine Lee Kraut. Lee Kraut sono delle nubi, praticamente delle onde che si formano quando l'aria ridiscende dal lato sottovento e creano delle strutture a onda, che poi vedremo bene nel dettaglio, che in questo caso non ha niente a che vedere con un bel pennacchio regolare, compatto, che si attenua giusto dopo un 500-600 chilometri. e poi vabbè, dice questa nuvola, la nuvola visibile in questa foto è stata presa il 10 ottobre, come l'avevo già annunciato prima, dalla visual monitoring camera WMC, sulla mass express, è un altro modo per definire la mass webcam, ma la telecamera è quella. Qua dice praticamente che questa struttura si allunga per 1500 chilometri. In questa foto ci giunge, oltretutto tagliata dal terminatore. Qua finisce l'illuminazione solare, questo non vuol dire che questo pennacchio non possa arrivare magari fino a qua o qua. Ma comunque, quello che si vede lì dentro sono 1500 chilometri, dal lato ovest di Arsia-Mons, come abbiamo già detto precedentemente. Come termine comparativo, il cono, la caldera di Arsia-Mons, ha un diametro di circa 250 chilometri. Questo anellino sono 250 chilometri di diametro, figuratevi il resto di quel pennacchio, qua parla di 1500. Scegliamo giù nell'articolo perché c'è un altro punto interessante, a parte mostrarci ancora delle foto che abbiamo già visto e commentato precedentemente. A un certo punto si parla della ricorrenza del fenomeno in questo trafiletto qua. Tuttavia, la ricorrenza stagionale di nuvi di ghiaccio d'acqua, come quella mostrata in questa immagine, si sa che si formano durante il southwest flank, dal lato sud di questo vulcano. E che erano state precedentemente osservate dalla Mars Express e da altre missioni nel 2009, nel 2012, nel 2015 e io ci aggiungerei adesso nel 2018. Questa è una cadenza decisamente regolare una volta di tre anni. Peccato che erano marziale di due anni. Quindi questo già mi dà un altro elemento di valutazione. A parte il contrasto nella direzione dei venti dichiarata dall'ESA e da quella che si vede nelle immagini della NASA, che già anche lì vorrei capire come fanno a saltare fuori delle incongruenze del genere. Ma qua si parla di ricorrenza stagionale di un evento che non può essere legato alle stagioni. Perché se avviene ogni tre anni e l'anno marziale dura due, è come dire che un evento sulla Terra che si verifica ogni anno e mezzo è stagionale. Ma che stagionalità c'è? Una volta per dire cade d'inverno e la volta dopo cade in piena estate. Cioè, dov'è la ricorrenza stagionale? È periodico, non è stagionale, che è diversa come definizione. E poi, diciamo, l'articolo prossime, ribadendo il fatto che è una nube formata da tre stadi di ghiaccio d'acqua che si formano quando l'atmosfera marziana viene portata a una certa quota. Ma qua, in questo caso, però, definendo la nube sotto vento e non sopra vento, la pongono in un'altra questione. E adesso andremo a vedere cosa sono i nubi sotto vento. In questa semplice pagina di Wikipedia possiamo vedere una spiegazione sommaria abbastanza semplice da capire di cos'è il sollevamento onografico, che poi è il fenomeno che dà origine alle ormai famose nubi olografiche. Le nubi olografiche si formano perché? Perché quando c'è una massa d'aria, sostanzialmente, che incontra un ostacolo importante, come può essere una grossa catena montuosa, o comunque anche una singola montagna, come si può vedere in questa foto, praticamente cosa fa? Salendo di quota, si raffredda. Si raffredda, quindi raggiunge il limite di condensazione e condensa. Sulla terra d'origine, anche a precipitazioni. Su Marte, questo non si sa, non è documentato, però, queste nubi si formano e le abbiamo già viste. E sono nubi che hanno diverse caratteristiche, secondo che siano dal lato sotto vento o dal lato sopra vento. Perché? Perché quando il vento incontra la catena, è costretto a salire la catena montuosa. Sale, condensa e poi ridiscende dall'altro lato. Quando ridiscende, il fenomeno è esattamente l'inverso. È quello che qua definisce il vento di favone o fern. Cioè l'aria cadendo si riscalda, si comprime e quindi questo porta la massa d'aria stessa più lontana dal punto di condensazione dell'acqua. E quindi di solito dal lato sotto vento non si hanno nubi. Si ha un bel tempo e quasi totale assenza di nubi. Esistono dei casi però in cui si formano anche delle nubi sotto vento. Però per questo ovviamente abbiamo bisogno di qualcosa di più importante che Wikipedia. E abbiamo questo World Meteorological Organization che mi sembra perfettamente credibile e che parla dell'influenza olografica nel lato sotto vento, in quanto riguarda il lato sotto vento. C'è anche un bel video per chi lo vuol vedere in cui si mostrano delle animazioni di nubi che arrivano dalla montagna ma qua c'è un bellissimo grafico che ci spiega cosa succede. L'aria risale, forma la nube olografica classica e poi nel ridiscendere si creano delle onde un effetto onda discesa, risalita, discesa, risalita. Ovviamente nei punti di risalita si riforma la condensa nei punti di discesa si ridissolve e quindi si ha un effetto come vediamo nell'immagine sotto a onda. Vedete? C'è anche sotto il grafico con la spiegazione ed è perché si formano questi effetti a onda. Perché l'aria comincia ad avere un moto turbolento un moto circolare turbolento che porta alla formazione di queste onde e questo è quello che al massimo può avvenire nel sottovento perché normalmente come si vede anche dalla foto sopra la più grande formazione di nubi è sulla sinistra dell'immagine cioè prima della catena montuosa dopo la catena montuosa c'è questo effetto delle lee waves cosiddette onde sottovento che danno origine a queste curiosissime onde ora ritorniamo alle onde alle nubi orografiche su Marte questa è l'immagine che già conoscete che vi ho già presentato osserviamo bene come c'è la nube nel lato sopra il vento cioè il lato dalla parte sinistra raggiunge la caldera le caldere dei vari vulcani e poi la nube si interrompe e forse qua si vede un leggero effetto di waves ma io per il resto non ne noto alcuno questo vuol dire che probabilmente in questo caso non si formano di sicuro qua abbiamo Arsia Mons che è quasi completamente oscurata perché in quel momento stava girando anche una vera tempesta di sabbia che è questa massa qua che si vede qua sulla destra centro-destra e quindi vediamo sì delle nubi orografiche ma non vediamo delle lee waves non ci sono e se ci fosse avrebbero il classico aspetto di queste qua e invece ciò che vediamo è questa roba qua non ha effetti ondulatori per quanto mi risulta guardate anche l'ombra come si prolunga questa ovviamente è l'immagine del 24 come potete leggere in basso dalla vita scadina e l'ombra arriva praticamente fino al terminatore non so se si rende una idea in gran parte del pennacchio si vede come bianco poi probabilmente nel proseguire prende una colorazione più sporca più simile al colore del terreno non so per quale ragione ovviamente però l'ombra mi dice che il pennacchio c'è ci sta passando proprio su lì e fa onda da questa foto vi ricordo che la lunghezza ricavata era di 2100 km questo non è stato per niente citato nell'articolo dell'ESA che vi ho mostrato prima anzi loro citavano come massimo 1500 km ovviamente ricavate dalla foto del 10 ottobre mentre questa è del 24 settembre è interessante anche qui notare come dal 21 settembre dove eravamo a 910 mi sembra chilometri poco meno di 1000 in altri tre giorni il pennacchio abbiamo regnato ancora più di 1000 km quindi anche l'effetto di trasporto del vento deve essere stato notevole pur non disperdendo il pennacchio più di tanto perché come vedete l'ombra rimane abbastanza filiforme e questo è molto curioso e allora il dubbio qual è? è quello di dire è una numerografica o è un'eruzione lucanica o comunque un fenomeno di outgassing o di qualunque natura ma di sicuro di origine geologica e non meteorologica come in questo esempio terrestre molto lampante qua si vede l'etna col suo bel pennacchio che si estende portato ovviamente dai venti e un'altra cosa da notare sempre nel sito questo qua è che quando ci sono le D-Waves comunque c'è anche la nube olografica convenzionale come si vede anche nella foto sopra non esiste che si formano le D-Waves senza avere una condensazione anche dal lato sopra vento quantomeno dagli esempi mostrati qua quindi secondo me la teoria della numerografica decisamente non sta in piedi non sta in piedi per diversi motivi manca la nube olografica dal lato sopra vento la pretesa nube sotto vento non ha nessun aspetto di tipo ondulatorio o ha onde di nessun tipo ma è un pennacchio direi decisamente uniforme e anche bello denso a quanto pare e un altro aspetto importante da tenere presente è che se fosse stata una lunga olografica come nell'esempio già visto precedentemente avrebbe riguardato tutti e quattro i vulcani principali quantomeno o quantomeno Pavoli Smalls il più vicino ma invece no questo esempio riguarda solo e soltanto Asia Monks questo tipo di pennacchio è stato già visto nel 2009 nel 2012 nel 2015 e adesso nel 2008 e questa forse è la prima volta che se ne parla così pubblicamente eppure ancora non ci viene fornita una spiegazione credibile io non ho elementi per poter stabilire io cos'è perché non ho immagini termografiche non ho analisi spettrali che mi permettano di trarre delle conclusioni in quel senso ma di certo posso dire che non è una nube olografica spero che mi siano piaciute queste mie recuperazioni sul pianeta Marte e che vogliate seguire i miei video passati e futuri e magari seguire anche le mie news sulla pagina facebook del pianeta Marte dove regolarmente pubblico tutto ciò che trovo interessante tra le news dei siti ufficiali di fronte accreditata come università o centro di ricerca o la stessa analisa ESA vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima volta